Il Dipartimento di Prevenzione della ASD 12 di Viareggio ha deciso di estendere i controlli della rete idrica di tutta la Versilia per individuare eventuali inquinamenti da taglio. Da lunedì 17 novembre, quindi, per un periodo complessivo di due settimane, saranno prelevati 144 campioni di acqua in tutti i punti di prelievo ufficiali utilizzati dall'azienda ASD per le verifiche delle reti degli acquedotti, a copertura dopo quello di Pietrasanta, dei territori di Stazzema, Camaiore e Seravezza, Forte dei Marmi, Massarosa e Viareggio. Intanto, i dati diffusi riguardo le concentrazioni di taglio nelle acque di Pietrasanta confermano una costante diminuzione, segno che l'intervento messo in atto da Gaia sta cominciando a dare frutti sperati. Per venerdì 14, invece, è in programma a Firenze un incontro in cui parteciperanno i rappresentanti della regione della ASD 12 per concordare e definire le caratteristiche di un'indagine epidemiologica che, realizzata attraverso l'Agenzia regionale della Sanità della Toscana, convolgerà la popolazione che potrebbe essere stata esposta ad un'eventuale presenza di taglio nell'acqua potabile, la cui qualità, come è stato ribadito, non deve destare nessuna preoccupazione da parte degli utenti versilesi. Grazie.